episodio 5 non c'è più tempo, partiamo sto registrando quasi tutto ad un fiato, voglio vedere come va a finire è lì che ha iniziato a comunicare sempre andiamo nel stesso posto quando andavano i marcelli? sì, è tutto non veniva nella città dalla città? dobbiamo andare se lo domandava perchè c'era la lord ma guarda te no no clementine è morta dove sia devo trovare non so se potrei chiedere la vostra aiuta vediamo guardare clementine insieme sì che tipo amico sarei se non ero qui per te non prenderà la notizia non prenderà la notizia non prenderà la notizia salta qui non ci sono non ci sono problemi qui ciò che voglio è la donna dare la donna e nessuno non è necessario che 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 non le che 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 voglio che vado che Cosa che sia, faccio. Tu puoi lasciare l'acqua. Voglio che non perdere nessuno di più. Questo non è quello che mi chiede. E cosa è? Un'escuimento. Sì, poi dovrà occupare il tuo bambino. Porca puttana... Non importa se è quello che è Non abbiamo tanto tempo Abbiamo un po' meno Siamo tutti assicurati che nessuno si arriva E tu sei ancora il più sbagliato di tutti Cerchi di trovare un altro modo da qui In teoria avevano un paio di uscite sicure Solo alcuni servizi Non posso togliere i miei bracci Credo che sia un tipo di strumento Rufus mi ha fatto solo guardare Si sembrava come un carro Non voglio immaginare questo essere usato in un corpo Non voglio immaginare questo 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 Allora, questo è più da che ci credi Credi che avrò di andare a via Non hai riuscito a farci Ha perduto il sangue Bene, gli elevatori sono aperte andiamo Ho portato la scala Non voglio immaginare Noi, non ci sono nessuno. Oh, no. Siamo dovuta andare in quanto spettacolo possibile e vedere se possiamo farlo ad un ponte o anche il bambino. Pensi che sia possibile per te? Si, andiamo. Sei ok dietro? Ricordate, quiet. Non c'è problema. Un'altra un'altra. Un'altra un'altra. Chiesus Christ, Lee. la bestia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Dove dobbiamo andare? Non è che abbiamo delle indicazioni, oh. It's an extension ladder. Paracomodo, di sicuro. La porta dove siamo arrivati. Questa è la scala? Questa è la scala? Belltower. E' quello che sta. Sì, potrebbe aiutare. Potrebbe la scala? Beh, però non lo so. Gli propone una scala. Ehi. Ok. Ok. Eh, c'è la scala. E' 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 la scala. Ok. Ti ribalti lì. Facciamo un braccio solo. Ok. Oh, shit. Oh, fuck. Holy shit, man! E' ok? Yeah. E' ok. E' piaciuto che hai una mano. No shit! Try to find another way out of there? They're coming this way! Tons of them! Jesus! Now get back here! Eheh. Haha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Eh, ma lui potrebbe scendere dal campanino, no? I think I have to jump. There's no way back. You can make it. It ain't that far. Beh, figa, non c'è la botola. You got this. You got this, motherfucker. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ispaki la faccia, ma. Ha ha ha. I gotcha! there's one way back. Let's get the hell off this roof. Are an anti-incendio providenziale. Who is the Luog of miss fat? ho fatto sottare la bar come on just come the fuck on well we're not coming back here it's a guy on the radio the one that's got claim they're gone holy shit they're gone relax hey guys no it wasn't the guy on the radio it was vernon no fucking way the invalids their actions contradict your characterization but yeah the invalids he's right they're not invalids they're just people people have been dealing with shitty situations even longer than we have no wonder they got the jump on us i don't give a fuck if their make-a-wish was a fucking boat ride when i find them i'm gonna rip their throats out we'll never find them i can't believe they did this to us it's sick it really is they use your god damn sympathy for sick folks and then stab us right in the back they didn't use shit they did what anybody would have done they've been living like ghosts forever and they were fed up that's it he says he feels bad about it leaving us and clementine behind they fucked us oh mead can you go over the fence and let us into the backyard we shouldn't be out in the open yeah this is not happening everything is so fucked clementine is still out there so we get clementine and then what we get the fuck out of cities i'm done with cities we go into the countryside and make a go of it i don't want to go back out there again then don't go your own way you're every man for himself until you and your boyfriend actually need something you wouldn't have had a boat to lose without us so shove it okay everyone keep it together nothing has changed has it nothing has changed i mean immediately we stay the course don't turn on each other we can do this in the yard what do you think lee what do we do now without a boat well i know you two are just gonna look out for number one and number two you know yourself it's not like that man bullshit it's not a tonic agent there's other shit at play all right what you got the boat hidden somewhere shut up get to the countryside we dicked around with cities and coastlines and boats too long take her out there never safe as you can okay yeah we got to get out into some open spaces you know that's what i'm for this is bullshit you might not even be around so with all due respect lee his opinion doesn't carry a lot of weight hey it's still his little girl out there she's number one that's the end of that okay but what about they shouldn't be able to get into the backyard right maybe not we can secure this place krista get upstairs make sure nobody's here on it kenny move anything you can up against the doors and windows that's what i was thinking oh me what is the door everyone help oh me now oh 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 ora non mi arrivo ora cosa? eccola la che cazzo ho fatto arrivare fin qua? ragazzi! help me with this! everyone get to the end of the hallway this will slow down get to the end of the hallway and take a fucking stand we can't let ourselves get trapped let's get as many as we can when we see an opening we go for it how many bullets you all have? three five four you all know where to aim get ready you all know where to aim i'm out! me too! fuck! where do we go? there's no goddamn opening! up! go! go! eh però poi siamo bloccati lì ho la casa infestata that could have gone better everyone okay? lee's still bitten shut up shut up ok let's get out of here and keep moving kids right we gotta keep moving if there's any chance we get glim and catch up to those goddamn thieves? i don't know maybe where we're not going out through this window no latches no roof access and thirty feet straight down anyone have any ideas? i bet this guy would he's got a resourceful air about him knock it off dixon kent the third industrial mead krista just trying to lighten the fucking tone we need solutions not stupid jokes i'm sorry so no ideas then there's gotta be another way check the floor for any other access a vent anything or we wait for the house to clear out and stick to the high ground hey you're not looking great and you're warm i'm okay don't please 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 i'm okay i'm really parents oh no what did that mean? she's at the hotel where her parents were staying he hasn't moved her yet yeah yet we need to start thinking about more than just clementine when it comes to our urgency what do you mean? how do we get out of here? that's the whole point we don't know okay now your life depends on it how do you get out of here? i don't know i don't get it i do i do like i said everyone needs to keep looking for a way out damn it we're trapped in here do you think that worked? i i don't know hope so i think we need to have an adult conversation about what happens if lee takes another spill and we go to the fall floor we could be looking at a larry situation here who's larry? it don't matter i think it'd be best if we just worried about getting to clem right now we're not gonna do her any good if you've attacked us that isn't gonna happen how do you know that? guys i don't know what happened before omid and i showed up but we can cross this bridge when we get to it lee i'm not advocating anything here but how is this not a thing? we're all so worked up about clementine that we're forgetting what the fuck happened to you my arm is not the issue i'm not the problem the 500 walkers in the house and no door in this room are the goddamn problem yeah maybe at the moment but who's to say when it becomes an issue? at that point there may not be any time left to deal with it this is getting out of hand you're gonna listen to me we will get clementine back with or without you because i haven't given up everything to die because we were stupid then kill me you son of a bitch okay? don't even fucking hesitate i will you ruined your face shut up sweetie look it's corroded to hell what's on the other side of this wall? a 30 foot drop? no this mansion butts up against the one next door i'll be damned we're not lifers on alcatraz here we can't spend the next three months digging through a wall if the rest is as dilapidated as this we might not have to let's see on youtube you too this wall ain't shit is this really possible? tia que pobres cas americanis son veramente cosy eh teño yeah, we can do this ok we're working ships omeed, kristah and I Lee, you rest we have to work fast no di chuniente che sarebbe stato un errore. Se io ero te, sarebbe stato scoperto. E quando si è successo? Mi panico. Ma ora sento in silenzione. Come il giorno prima che ti arrivi. È vero. È così vero. Io continuo facendo un doppeltriggio sul tuo braccio, aspettando di essere là. Ho spero che tutto ciò che sia in loro, è morto. Quali sono le possibilità di questo? Non lo so. C'è che tutti è lavorato. Anche se non si tratta il processo, io sarei felice. Non lo vuoi dire. Quindi quando troviamo questo ragazzo, cosa pensi? Abbiamo scoperto chi è. E perché sta facendo questo? Possiamo rispettare Klim, ma non sarà sicuro se questo ragazzo è stato scoperto. Non è che non c'è un vero motivo per adesso. Vabbè, effettivamente... Eh... Allora... Penso dargliela loro. E Kenny è bruciato. ... 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